Ben trovati con quest'ultimo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemolise. Dunque la proposta lanciata da Vincenzo Niro proprio a Telemolise ha riacceso il dibattito sulle fatiscenti infrastrutture viarie e ferroviarie del Molise ed è stata condivisa anche da Assindustria e Sindacati. Resta l'incognita sul finanziamento della strada a quattro corsie tra San Vittorio e Termoli ma tutti condividono la necessità di bypassare subito il viadotto sull'iscione. Mentre Eleonora Scuncio, eletta con la lista Iorio per il Molise, propone il potenziamento della statale 87 collegandola con la Bifernina. Sentiamo Giovanni Minicozzi. L'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Niro con la recente intervista rilasciata a Telemolise ha lanciato un macigno nello stagno e ha rimesso al centro del dibattito la tavica questione dei collegamenti viari e ferroviari che oggi più di ieri hanno accentuato risolamento del Molise al suo interno e dal resto del mondo. Una situazione del tutto precaria con strade provinciali totalmente dissestate e con le arterie principali ridotte a mulattiere modello Burundi, una condizione insopportabile che peraltro incide negativamente sulle possibilità di sviluppo della regione più arretrata d'Europa, precludendone qualsiasi ipotesi di sviluppo economico, produttivo e occupazionale. La proposta dell'assessore tra scettici e realisti ha già incassato il consenso di Assindustria che da tempo sollecita il potenziamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie e dei sindacati. In particolare Franco Spina della CGL ha dichiarato di condividere la proposta ma ha precisato serve un piano straordinario della viabilità, risorse e tempi certi per realizzare le opere con priorità condivise tenendo conto delle necessità di trasporto delle merci per le imprese situate nelle aree interne e nei nuclei industriali. L'assessore Niro d'accanto suo tira dritto e precisa che si rende necessario verificare tutte le opere d'arte sulle fondo valli realizzate oltre 50 anni fa per renderle sicure e che lo Stato deve fare la sua parte per finanziare le nuove infrastrutture. Per quanto attiene la viabilità che riguarda il viadotto Verrino che è l'altro viadotto che rappresentava dei pensieri, delle particolarità, hanno fatto l'ispezione grazie all'ausilio del mezzo fornito dall'autostata, il bybridge, hanno terminato delle verifiche sulle campate al di là del manto superiore non presenta particolari segni di difficoltà. Lo stesso ragionamento vale sul viadotto Sente che era l'altro opera ancora di competenza della provincia dove lì forse credo qualche intervento di consolidamento nei prossimi giorni ci sarà richiesto per dare ulteriore stabilità. Il resto mi pare il viadotto camperale nelle prossime settimane già è stato previsto appalto quindi è stata fatta la consegna dei lavori e partiranno i lavori. Diciamo che in via generale su questi tratti possiamo dire che siamo sufficientemente accorti e siamo pronti a monitorare costantemente l'evolversi di tutte le situazioni. Capiamo che non è di facile soluzione trovare qualsiasi altra strada possibile se il governo non dovesse intervenire affinché noi possiamo essere rispettati e riprenderci la dignità come regione che possa svilupparsi e possa creare speranza di rimanere in questa terra altrimenti non avrebbe senso né la quattro corsie né pensare di mettere in sicurezza se noi non creiamo i presupposti perché questa venga considerata come una delle 20 regioni d'Italia. Sul tema è intervenuta anche Eleonora Scuncio eletta in regione con la lista Iorio per il Molise. Ho molto apprezzato le proposte dell'assessore Niro ha detto perché ha rassicurato i molisani parlando della costruzione di un nuovo ramo stradale per aggirare la diga dell'Iscione. A tal proposito ha spiegato Scuncio voglio ricordare che il governo Iorio aveva sottoscritto un accordo con l'ANAS per velocizzare la statale 87 da Casacalenda a Larino bypassando la Bifernina verso Casacalenda, progetto già finanziato con i fondi dei terremoti 2002 e quindi realizzabile in tempi brevi. Non condivido ma accetto la titubanza dell'assessore Niro sul rifiuto dell'autostrada del Molise finanziata per il 50% dall'ANAS e l'altra metà dalla regione la quale incasserebbe anche una parte del pedaggio autostradale con la possibilità di creare posti di lavoro, ha aggiunto ancora Scuncio, senza considerare che i molisani sarebbero costretti a pagare 345 milioni di euro per risarcire le imprese aggiudicatari dell'appalto dell'autostrada. Frattura è stato bocciato dai molisani anche per questo e alcuni di voi si sono salvati rientrando nel centrodestra, ha concluso Scuncio. Ma chiedo a questa maggioranza e a questa giunta regionale di non ripetere gli stessi errori dell'aggiunta Frattura. Viabilità e controlli dopo le scosse di terremoto che hanno colpito il basso Molise, sotto la lente è anche il ponte dello sceriffo tra Larino e Palata dove i tecnici hanno ispezionato i pilastri. Sulla Bifernina intanto autovelox e limite di velocità a 50 km orari con i maggiori disagi che continuano ad essere segnalati nelle ore di punta. Sentiamo. Sotto la lente dei tecnici della provincia di Campobasso i ponti che attraversano la Bifernina, controlli approfonditi per verificare eventuali criticità dovute alle scosse di terremoto che hanno colpito il basso Molise. Le squadre si sono concentrate sui pilastri del ponte dello sceriffo che collega il bivio di Larino a quello per Palata dove resta il divieto di transito ai veicoli di peso superiore a 7 tonnellate e mezzo. Nelle verifiche viene utilizzato un bybridge che consente ai tecnici di avvicinarsi in varie altezze ai pilastri. Ingegnere Antonio Plescia, in cosa consistono questi controlli e dove vengono effettuati? I controlli che stiamo facendo sono sugli elementi strutturali più sollecitati e sono tesi a valutare lo stato di conservazione dell'opera con delle carote e delle prove induttive che vengono realizzate sulle armature per definirne anche la resistenza residua. Da qui poi dopo avremo modo di stabilire se può essere rivista la limitazione di 7 tonnellate e mezzo dopo che vengono fatte le attività del laboratorio che si procrastiranno ancora per tre settimane. Traffico rallentato lungo il viadotto della diga del Liscione dove resta il limite di 50 km orari e viene indicato il controllo elettronico della velocità. Disagi maggiori nelle ore di punta con tir, furgoni auto incolonnate e tempi di percorrenza allungati. I controlli sulla diga e il viadotto non hanno comunque riscontrato criticità in attesa di possibili alternative come una circola quale, così come annunciato su Telemolise dall'assessore regionale all'infrastrutture Vincenzo Niro. Intanto all'area di sosta di Lupara pendolari e viaggiatori di passaggio interpretano così i limiti e divieti imposti sul viadotto che attraversa il lago artificiale. Ha percorso il ponte, limiti, controllo di velocità, ci sono disagi? Un po', comunque 50 e un po' dobbiamo andare piano purtroppo. Penso che, ma pure 60 e 70 va lo stesso, però per la sicurezza. Ho trovato la polizia ieri con il laser che faceva i controlli. Si formano delle code però il tempo che ci vuole per la sicurezza va bene così, almeno meglio di prima che era chiuso. Ha rispettato il limite di 50 km orari? Sul ponte sì, solitamente vado 70-90 dopo il ponte. Ci sono creati incolonnamenti? No, la viabilità era buona, eccellente. Dove è diretto? Sant'Ella è una sannita. In Bologna non li rispettano come in Italia, in Austria li rispettano i limiti di velocità. E qui sul ponte? Qua in Italia, né sul ponte, né in autostrada, fai fatica a rispettarli perché ti vengono dietro. Il limite è troppo esagerato, già c'era, ma ora è troppo esagerato. Di vedi di sorpassi, ristringimenti, la polizia che si sta alle calcagne, pare che facciamo i banditi, ma non l'abbiamo fatto mica che era stato noi il terremoto. Motivi di sicurezza? Eh, penso di sì, ma il ponte è sicuro, è sicuro. Te lo dico io, che sono di quali afferi, il ponte è sicuro. Il segretario aggiunto della Cisla, Bruzzo e Molise, Gianni Notaro, plaude la proposta dell'assessore Niro sulla viabilità perché al ponte dell'Iscione, ha detto, va creata un'arteria alternativa che diventi anche funzionale all'aumentare del traffico sulla Bifernina. È positiva anche l'accelerazione e il completamento del tratto della Castellerce, arteria che permette un rapido collegamento tra la Bifernina e la Trignina. Va comunque considerato, ha aggiunto Notaro, che le due arterie devono avere un intescambio rapido tra loro, visto che solo la Trignina insistono altri ponti che possono preoccupare, come quello in prossimità di Bagnoli del Trigno. Secondo il sindacalista, va ripristinata più presto la viabilità che passa per Trivento. Riteniamo come Cisla, ha concluso Notaro, che la Regione debba aprire un tavolo per avviare un confronto serio in cui si prendono decisioni che portino il Molise ad avere infrastrutture europee. Intanto, l'assessore alla viabilità della provincia di Isernia, dopo le verifiche effettuate con le attrezzature date in prestito dall'ANAS, rassicura sulla stabilità dei viadotti Verrino e Sente. Ma dichiara, i ponti sono sicuri e comunque urgente partire con la manutenzione. I soldi dovrebbero essere garantiti dalla Regione, in quanto la provincia di Isernia non ha proprie risorse. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Sono terminati i controlli sui viadotti Sente e Verrino, di competenza della provincia di Isernia, grazie al metodo Buy Bridge messo a disposizione dall'ANAS. Le verifiche, riferisce l'assessore di Palazzo Berta con delega alle infrastrutture Mike Matticoli, hanno confermato che non vi sono rischi immediati, ma le opere necessitano comunque di manutenzione. In particolare, il Verrino richiede il rifacimento dell'impermeabilizzazione e il rifacimento con potenziamento delle scoline laterali, che non riescono più ad assorbire le grandi quantità di acqua derivanti dalle cosiddette bombe d'acqua, completamente diverse dalle precipitazioni di una volta. Il Sente, prosegue Matticoli, presenta l'oramai famosa rotazione della pila numero 3, che sebbene non abbia fatto più movimenti, comunque ha bisogno di messa in sicurezza. Come già ribadito in numerose occasioni, se non si interviene immediatamente sui due viadotti, dice Matticoli, non escluso che nei prossimi due-tre anni si arrivi alla chiusura per evitare rischi all'utenza. La provincia di Sernia ha aggiornato anche in termini di costi la lista delle priorità che sarà inviata alla Regione Molise nei prossimi giorni, corredata da una dettagliata relazione sulla situazione della rete viaria provinciale. In sostanza ora la palla passa alla Regione, in quanto la provincia di Sernia, dopo la mancata riforma costituzionale, come tutte le altre province d'Italia, è rimasta senza fondi, se non per la minima sussistenza dello stesso ente che, a malapena, riesce solo a pagare gli stipendi dei dipendenti. La proposta di legge sui test antidroga casuali e periodici per consiglieri e assessori regionali presentata da Massimiliano Scarabeo è stata condivisa e firmata dai consiglieri di maggioranza. Ritengo, ha detto Scarabeo, che i drug test rappresentino un impegno serio da parte di chi ha sulle spalle la responsabilità di assumere decisioni nell'interesse generale della collettività. Hanno sottoscritto la proposta Paolo Matteo, Gianluca Cefaratti, Quintino Pallante, Eleonora Scuncio, Armandino De Giglio, Nico Romagnolo, Aida Romagnolo, Filomena Calenda, Antonio Tedeschi e Salvatore Micone. Il tempo è denaro e sull'uso dei fondi europei non si fanno eccezioni o sconti, a dirlo il Ministro per il Sud, Barbara Larezzi, la quale ha annunciato che nel mese di settembre incontrerà tutte le amministrazioni regionali del Meridione per un'azione di controllo e di supporto. Oggi è stata a Potenza, il 17 invece incontrerà il Morise. La scadenza del 31 dicembre è dietro l'angolo a quella data, ha detto che le regioni del Sud dovranno presentare a Bruxelles la rendicontazione delle spese effettuate e ogni euro non speso andrà dunque perso. Un danno che per il nostro mezzogiorno non può assolutamente permettersi per ragioni di necessità e credibilità, ha aggiunto ancora il Ministro. Parliamo di trasporto pubblico. La sospensione delle corse degli autobus tra il termine del centro di Campobasso, annunciata dal Comune, è stata al centro di una turbolenta seduta della Commissione Trasporti di Palazzo San Giorgio. Il consigliere Pilone ha chiesto le dimissioni dell'assessore De Bernardo. Vediamo. Un braccio di ferro che va avanti da anni, un tira in molla tra la società concessionaria e il committente pubblico che non ha quasi mai coinciso con un servizio che soddisfacesse gli utenti. È il trasporto urbano di Campobasso sul quale ora pende una nuova tegola sistemata in bilico dall'amministrazione comunale, pronta il 13 settembre a darle la spinta decisiva e farla cadere da Palazzo San Giorgio sulla testa dei cittadini che prendono l'autobus ogni giorno. La data coincide con l'annuncio dato dal Comune di tagliare le corse che collegano il centro città al terminal e viceversa. La SEAC ha subito messo le mani avanti dichiarando di non assumersi alcuna responsabilità per eventuali disservizi provocati dalla riduzione delle corse imposte. Una data, quella del 13, non casuale visto che coincide con la riapertura delle scuole e quindi a rischio ci sono tutti i collegamenti tra la stazione dei Pullman di Via Vico e il centro cittadino con le diramazioni verso gli istituti scolastici. In questo caso ad essere penalizzati sarebbero le centinaia di ragazzi che ogni giorno arrivano a Campobasso per frequentare le lezioni e poi ripartire. A questo proposito la SEAC ha reso noto che per tutte le altre delucidazioni gli utenti devono rivolgersi al Servizio Comunale dei Trasporti. Uno scenario ripreso durante i lavori della Commissione Trasporti oggi in municipio, seduta a Turbolenta durante la quale Francesco Pilone, presente come capogruppo ma senza diritto di voto, ha chiesto le dimissioni dell'assessore ai trasporti Francesco De Bernardo per come gestito il settore e per gli ultimi episodi. La richiesta è stata subordinata al voto della Commissione come indirizzo politico ma le assenze dei componenti di maggioranza e opposizione erano presenti oltre a Pilone il presidente Pino Libertucci e Roberto Gravina per i 5 Stelle ha prodotto la caduta del numero legale. Lo stesso Libertucci avrebbe minacciato di dimettersi dalla presidenza della Commissione se non interverranno fatti nuovi e un diverso atteggiamento da parte di tutte le parti in causa. Anche la CGL ha chiesto per voce di Franco Spina un passo indietro da parte di Palazzo San Giorgio ma la motivazione del Comune riporta tutto ad una parola che negli ultimi anni risuona nei corridoi dei palazzi, tagli. Anche il Comune cioè lamenta un taglio del 30% delle risorse che la Regione trasferisce all'amministrazione di Campobasso per il trasporto. Tutti tagliano ma a piedi e senza servizi restano sempre e solo i cittadini che pagano le tasse. Se i ragazzi che arrivano dei paesi vogliono andare a scuola dovranno farlo, tacco e suola. Dopo la CGL anche la OSB scende in campo a sostegno di Lucio Pastore. Il medico del pronto soccorso di Iserni ha finito sotto procedimento disciplinare per la sua partecipazione ad una nostra trasmissione. Ma il sindacato autonomo, pur difendendo Pastore, prende di mira la triplice in quanto firmataria con l'ASREM del codice di autoregolamentazione in base al quale il medico è stato posto sotto indagine. Sentiamo ancora Enzo Di Gaetano. Continuano senza sosta le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Lucio Pastore messo sotto inchiesta disciplinare da l'ASREM per essere stato ospite di una trasmissione televisiva della nostra emittente Moby Dick. E si infittiscono anche i contatti tra il medico del pronto soccorso di Isernia e i movimenti che sostengono il sindaco di Napoli, De Magistris. Non è da escludere nei prossimi giorni un incontro tra i due personaggi. Intanto, tocca uno, tocca tutti, dice Sergio Calce della OSB Molise, che scende in campo al fianco di Pastore e afferma. L'articolo 21 della Costituzione dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Le opinioni non possono essere soggette ad autorizzazioni o censure. La OSB Molise si schiera a fianco di Lucio Pastore, finito ingiustamente sul banco degli imputati e di nuovo soggetto a una contestazione disciplinare adottata dall'ASREM per le dichiarazioni pubbliche inerenti alla sanità molisana, rilasciate a un'emittente televisiva. Ma allo stesso tempo la OSB Molise condanna fermamente CGL Cisle Will, che di fatto sono complici dell'ASREM, perché loro hanno sottoscritto il codice di autoregolamentazione che oggi vieta la libertà di opinione su luoghi di lavoro a tutti i dipendenti, mettendo loro un ingiusto bavaglio. La OSB continuerà nelle sue battaglie per difendere diritti, libertà e democrazia, fin qui calce dell'OSB. Di rimando, Susanna Pastorino, della CGL Funzione Pubblica, afferma, trovo alquanto discutibile la scelta dell'ASREM di adottare con tanta solerzia un provvedimento disciplinare ingiusto nell'intento di tacitare e reprimere voci contrarie alle scelte di politica sanitaria effettuate in questi lunghi anni, al fine evidentemente di intimidire chi osa criticare il sistema sanitario attualmente in vigore nella nostra Regione. Divieto di balneazione in un tratto di rio vivo a Termoli, più precisamente da 50 metri a nord del torrente rio vivo fino a 50 metri a sud del torrente sei voci. A disporlo è stato il sindaco Angelo Sbrocca con ordinanza per preservare la sicurezza di cittadini e turisti dopo che l'ARPA Molise ha rilevato il superamento dei parametri per i batteri enterococchi e schericchiacoli in un tratto di mare di rio vivo. L'ordinanza che vieta la balneazione resterà valida fino a revoca e in queste ore l'ARPA Molise sta effettuando nuove campionature per verificare la permanenza o meno del superamento dei limiti. Cambio al vertice della Legione Carabinieri Abruzzo-Molise. Il generale Michele Sirimarco dopo tre anni ha lasciato oggi il suo incarico per assumere da domani il comando della Legione Carabinieri Allievi Carabinieri di Roma che ha le sue dipendenze la scuola Allievi Carabinieri di Roma, di Reggio Calabria, di Iglesias e di Campobasso. Il nuovo comandante è invece il generale di brigata Carlo Cerrina. Sentiamo. Cambio al vertice del comando Legione Carabinieri Abruzzo-Molise di Chieti. Questa mattina, presso la caserma Pasquale Infelisi, alla presenza del generale di Corpo d'Armata Vittorio Tomasone, comandante interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, il generale di brigata Carlo Cerrina ha assunto il comando della Legione Carabinieri Abruzzo-Molise subentrando al generale di brigata Michele Sirimarco, destinato a ricoprire il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma. La carriera del generale Cerrina, 55 anni, nato a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, è iniziata nel 79 la scuola militare Nunziatella di Napoli, promosso al grado di capitano prestato a lungo servizio in Sicilia al comando della Compagnia dei Carabinieri di Giarre, dal settembre dell'89 al novembre del 91 e successivamente da febbraio 93 a giugno 97 presso il centro operativo della Direzione Antimafia di Catania. Da aprile 98 a lugno 99 ha poi frequentato il primo corso superiore di Stato Maggiore Interforze, conseguendo il titolo che abilita all'esercizio delle più alte funzioni dirigenziali. Impegnato anche all'estero, il generale Cerrina ha ricoperto presso il comando Nato di Bruxelles dal 2005 al 2008 il prestigioso incarico di addetto militare aggiunto per i comitati politico-militari sulla lotta al terrorismo e sulle armi di distruzione di massa. Successivamente rientrato in patria, ha svolto dall'agosto del 2008 al settembre del 2011 presso il comando generale dell'arma di Viale Romania a Roma le funzioni di capo ufficio armamenti ed equipaggiamenti speciali ed in seguito capo ufficio logistico. Giunto a Parma a fine 2011 ha diretto il comando provinciale dell'arma della città ducale fino al 2014 per poi fare ritorno nella capitale e assumere l'incarico di capo di stato maggiore del comando scuole dell'arma dei carabinieri dal giugno 2015 ad ottobre 2016. Promosso al grado di generale di brigata nell'ottobre 2016 è diventato comandante della prima brigata mobile dei carabinieri. Infermieristica e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è ancora possibile iscriversi alle prove selettive per accedere ai corsi di laurea numero programmato dell'Università del Molise. La domanda di ammissione deve essere presentata entro le 12 del prossimo 3 settembre tramite la procedura online sul portale dello studente al quale si accede dalla home page del sito di Ateneo, ossia www.unimol.it. Uno studio dei ricercatori del neuromed di Pozzigli ha rivelato che il modello alimentare della dieta mediterranea riduce del 25% il rischio di mortalità nelle fasce più anziane della popolazione. La novità dello studio di rilevanza internazionale è proprio la sua efficacia come scudo salvavita anche negli over 65. Sentiamo i dettagli nel servizio di Tonino Danese. L'efficacia della dieta mediterranea nella riduzione del rischio di mortalità nella popolazione generale è nota da tempo. Una dieta equilibrata, sana, non pesante, ricca di frutta, verdura, pesce, legumi, olio extravergine d'oliva e cereali, poca carne, un consumo moderato di latticini e di vino ai pasti. Tutto ma con moderazione. Ciò che ancora non veniva focalizzato era l'efficacia di questo regime alimentare, nello specifico anche per gli over 65. Secondo la ricerca del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed di Pozzilli, pubblicata sulla prestigiosa rivista British Journal of Nutrition, la dieta mediterranea si associa a una riduzione del 25% del rischio di mortalità nelle fasce più anziane della popolazione con vantaggi in ambito cardiovascolare e cerebrovascolare. Si è analizzato il rapporto tra dieta mediterranea e mortalità in un campione di oltre 5.000 persone di età superiore ai 65 anni nell'ambito dello studio Molisani. Primo autore della ricerca è Maria Laura Brancaccio, che ha evidenziato le novità emerse. Licia Iacoviello, a capo del Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Nutrizionale del Neuromed, ha sottolineato come l'aver unito i dati di Molisani con quanto emerso da sei studi su over 65 di altri paesi, ha permesso di vedere che una crescente adesione alla dieta mediterranea consente di ridurre il rischio di mortalità in generale del 5% in maniera progressiva. Mangiare pesce più grassi monoinsaturi presenti nell'olio extravergine d'oliva, consumare moderatamente alcol in questo tipo di dieta sono fattori di alta protezione per la nostra salute. Con l'invecchiamento della popolazione mondiale, ha detto Giovanni De Gaetano, direttore del Dipartimento. Tra qualche anno gli over 65 saranno circa un quarto della popolazione europea. Ecco perché è necessario studiare e identificare quei fattori modificabili che possono garantire non solo lunga vita, ma anche una qualità di vita accettabile. La dieta mediterranea quindi potremmo dire tra i segreti di lunga vita, importante per i giovani e meno giovani. Singolare iniziativa a San Martino e in Pensilis, dove un intero quartiere si è mobilitato per pulire l'area che circonda le case popolari e un parchetto. L'occasione per chiedere allo IACP e al Comune di rendere più vivibile l'area e sistemare anche i palazzi dove abitano oltre 40 famiglie. Sentiamo Fabrizio Cionero. Un intero quartiere che si mobilita per rendere più vivibile un luogo d'incontro e condividere iniziative di partecipazione. Più di 40 famiglie che si mettono all'opera per pulire e sistemare la zona che circonda le case popolari e altri edifici, piazza Mario Sassano a San Martino in Pensilis. Da qui è nata l'iniziativa che ha raccolto l'adesione di residenti di ogni età, dai bambini ai nonni. Caterina spiega così l'intervento. Il nostro obiettivo è semplicemente quello che desideriamo, il ripristino totale della nostra bella villetta che da tempo è stata abbandonata a se stessa. Un'occasione per evidenziare lo stato di una zona molto frequentata e ancora più popolata durante l'estate con il rientro di tanti san martinesi che vivono fuori. Chiediamo semplicemente un aiuto a raggiungere il nostro obiettivo principale, perché è un bellissimo quartiere abitato da tante persone, tanti bambini che giocano in questi giardinetti ormai rovinati, dove non è più presente né erbetta né alberi per il fresco belli curati. Le panchine sono abbastanza rovinate, non ci sono cestini per poter buttare una carta di una caramella né niente. Si rinnova un impegno ma anche un invito rivolto all'Istituto Case Popolari e all'amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita di un quartiere e sensibilizzare tutti. Chiediamo anche un aiuto per i nostri bei palazzi che sono stati costruiti circa una quarantina di anni fa, ma sono stati ormai abbandonati dallo IACP e speriamo con questo che con l'aiuto della nostra amministrazione riusciamo ad ottenere il ripristino totale di tutto il quartiere. Domani sera alle 18.30 nella palazzina Liberty di Venafro Carmela Mascio presenta il suo libro Semplicemente vivere, la storia di un insegnante che ha passato la sua vita lavorativa a trasmettere conoscenze ma anche nella speranza in una società migliore. L'evento è stato organizzato dall'associazione Cipus in forma molise. Domani a Matrice in programma la festa di Padre Pio, un evento religioso ma anche gastronomico. Sentiamo i dettagli. Tonino Zeoli, domani a Matrice la festa di San Pio organizzata proprio dal comitato feste di San Pio, un appuntamento ormai diventato fisso a Matrice. Sì, sono 15 anni che facciamo la Sagra dei Cavatelli ma 20 anni che festeggiamo San Pio dovuto ad un parroco che è stato a Matrice che l'ha ideata per i giovani. Abbiamo iniziato a fare San Pio per i giovani, una squadra di calcio che esisteva all'epoca a Matrice. Partenza dalle 20, come si articolerà comunque la serata anche per chi vorrà venire per l'appunto a Matrice? Come al solito nei paesi c'è processione, fuochi artificiali per dietro la processione. Poi dalle 8 cominciamo a servire i Cavatelli. Alla quindicesima, Sagra, Cavatelli e Costatelle come dicevo prima. La gente di Campobassa partecipa tantissimo, anche perché noi moliseani siamo amanti dei Cavatelli. Quindi è un grosso successo, anno per anno siamo sempre a crescere di più. Si punta su un prodotto sotto il punto di vista culinario potremmo divenire must del Molise. Avete riscontrato come sempre anche la collaborazione da parte di tutti i cittadini di Matrice? Questo è una cosa essenziale. Nel nostro comitato ne siamo una ventina, ma fare i Cavatelli e partecipare in qualsiasi cosa da fare, anche montare i piccoli gazebo, ne siamo sempre i 50-60. Vuol dire che c'è grossa soddisfazione del popolo di Matrice che ci segue e noi ne siamo riconoscenti di far parte di questo paese che tiene molto a San Pio. Una manifestazione dalle mille sfaccettature, come ci hai già ricordato, quindi alla fine sport, cultura, religione e un mix vincente. Si, era nato per lo sport, per il calcio e quindi i giovani ci seguono tantissimo, anche con la speranza che potremo ritornare a rifarlo con tanti giovani ancora della nuova squadra del Matrice che quest'anno allenerò anch'io di nuovo. È tutto anche per questo appuntamento con l'informazione, l'ultimo della giornata su Terremolise. Ovviamente vi ricordo che andrà in replica per tutta la notte, quindi la possibilità di seguirci ancora. Domani mattina vi aspettiamo come di consueto con la nostra rassegna stampa anche al sabato a partire dalle 7. Buonanotte. Grazie. Grazie a tutti.